Grande Raffaele Toloi, se è saltato più in alto di tutti e hai sbloccato una partita complicata. Sì, una partita molto difficile perché abbiamo affrontato una squadra molto organizzata, fisica e pericolosa nei contropiedi. Per noi siamo stati bravi, abbiamo dominato la partita, sono molto felice per il gol. È stato un gol speciale per me perché oggi è il compleanno del mio papà in Brasile e è stata una maniera di fare un regalo a lui. La Sampdoria era l'unica squadra alla quale non avevate ancora assegnato. Sì, come ho detto, è una squadra organizzata, gioca bene, difendono molto bene, hanno giocatori fisici. Come ho detto, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo meritato la vittoria e dobbiamo seguire forti. Ogni partita che dobbiamo affrontare ancora per noi sono decisioni. Un'altra vittoria, la nona consecutiva, da squadra matura e terza partita a porta inviolata. Molto importante per noi anche non prendere gol. Oggi è stato così, nuovamente abbiamo difeso molto bene tutta la squadra. È importante vincere, vogliamo seguire così. Questa deve essere la mia mentalità e siamo molto felici. Come ho detto, ogni partita per noi è una decisione, dobbiamo pensare partita per partita. Sabato affrontiamo la Juventus, che è una squadra molto forte e dobbiamo fare grandi partite anche contro di loro. Final 8 di Champions League. Venerdì il sorteggio. Rafa, hai qualche preferenza? No, non ho preferenza perché sono tutte squadre molto forti, però abbiamo tempo per pensare nella Champions. Adesso seguiamo forte nel campionato perché vogliamo fare bene in tutte le partite che mancano.